Ciao a tutti! In questo video testeremo i guanti Gotha Rollfinger a taglio negativo dell'Hack of Soccer, usati dal portiere del Manchester City, Willy Caballero. Andiamo! Il lattice di questi guanti è acqua control grip di 4 mm, che offre un'ultima presa soprattutto in condizione bagnata, grazie anche alla piccola parte di lattice che avvolge il pollice. Il taglio è il roll-on, caratterizzato da semi-rollfinger su indice e mignolo e taglio negativo sulle restanti dita. Questo lattice è adatto per campi in erba naturale e sintetica. Il guanto è rivestito dal DSKIN, un tessuto traspirante che aiuta a eliminare il sudore durante le prestazioni. Inoltre è presente il micro adjustable strap, che è il secondo centurino, che offre al guanto una calzata e una vestibilità più naturale. A mio parere è un ottimo guanto, che se ne umidito prima dell'uso, può essere efficace sia in condizione asciutta che in condizione bagnata. È stato scelto da portieri come Willy Caballero del Manchester City, e questo dimostra quanto questo guanto valga. Ma voi cosa ne pensate di questi guanti della Chaos Hotcher? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Restate qui con noi per il prossimo video. Grazie a tutti per aver guardato il video.